Sì Non eliminiamo il pomo dalla vostra cucina a gas Lavoro subito e immediato È arrivato la rotina Arrota, coltelli, vordici, vordicine, vordice da seta e coltelli da prosciutto Donne, è arrivato la rotina e l'ombrellaio Aggiustiamo gli ombrelli, ripariamo le cucine a gas Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gas Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo Se la vostra cucina fa fuori, noi eliminiamo il pomo dalla vostra cucina a gas Lavoro subito e immediato È arrivato la rotina Arrota, coltelli, vordicine, vordice da seta e coltelli da prosciutto Donne, è arrivato la rotina e l'ombrellaio Aggiustiamo le ombrelli, ripariamo le cucine a gas Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gas Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gas Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gas Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello non glielo so dire, ma è una lavanderia normale. La lavanderia tradizionale, col personale, come funziona? Penso che le portali la roba la lavano loro. La lava il personale, la mette sotto il lavaggio il personale. Questo è un lavaggio self-service. Invece preferisco una lavanderia tradizionale, col personale. E' vero che io preferisco una lavanderia tradizionale, col personale. Invece questo cos'è? Un self-service. Non un self-service. Dalla lavanderia tradizionale, col personale. Pretendici. Se fosse da te, se fosse da te, se fosse da lavorarci. Non la lavanderia tradizionale, col personale, con i campi di stascio. Ok, ciao.